L'India lancia uno dei più grandi sistemi di assistenza sanitaria finanziati con fondi pubblici a favore di 500 milioni di cittadini in stato di povertà. Il premier indiano Narendra Modi ha presentato a Ramci e in Yarkand il nuovo programma Ayushman Bharat, soprannominato ModiCare. Un progetto di tale grande portata mai sviluppato prima al mondo. Tratteremo tutti fino all'ultima persona in sala d'attesa. Il paese offre già servizi sanitari gratuiti, ma con scarso accesso alle prestazioni. Stando ai dati del Ministero della Salute, circa 100 famiglie saranno coperte fino a 5.900 euro all'anno per cure ospedaliere secondarie e terziarie. La Banca Mondiale nel 2014 l'India ha speso l'1,4% del suo prodotto interno lordo nel sistema sanitario, una cifra ancora insufficiente secondo gli attivisti. Si creeranno 150.000 centri di salute e benessere per la maternità e l'infanzia, per il trattamento di disturbi gravi e delle malattie non infettive. Il premier enfatizza un grande passo avanti per l'India come futuro hub sanitario per servizi medici innovativi, accessibili di migliori qualità. Il premier enfatizza un grande passo avanti per l'India come futuro, un grande passo avanti per l'India come futuro, un grande passo avanti per l'India come futuro.